Nel Vangelo secondo Matteo, ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Iniziamo insieme, donoci Signore e lo Spirito. Donoci Signore e lo Spirito. Quest'anno qui alla Camera abbiamo voluto dare spazio a un artigiano, un artigiano siciliano, il Signore Mondi, che ha fatto un gesto molto coraggioso. Anni fa ha deciso di dire no a chi appunto l'aveva messo in difficoltà. Grazie. Auguri a tutti. Auguri.